Musica Ciao a tutti ragazzi sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati sul mio canale Proseguiamo con la nostra serie di Altis Life Cheyenne County Oggi sono in compagnia di Sciacallo Che è una recluta, praticamente Sciacallo è una recluta No, si, no, vabbè comunque è un agente di polizia Che oggi mi porto dietro appunto per fare dei pattugliamenti insieme E niente vedremo di al solito di tenere un po' le strade del server sicure Vedere che non ci siano delinquenti, sparatori, rapine, cose del genere E tutto qua, speriamo che Dio ce la mandi buona Ok Zenghero di Pumezia Che nome, Zenghero di Pumezia Buongiorno Prendiamo il motore Buongiorno, a posto Sì Piccolo condolino Sì, sì È passato un bersuv nero abbastanza spedito Alla giù c'è qualcuno con la pistola Basta l'arma Grazie Sì, sì Scusi È che premendo l'esco, mi toglie fuori l'arma Scusi È che sta a tirare a fare la pistola Coridan, mi sa che il coraggio non mi funziona più i bussanti Come scusa? Il coraggio che ho fatto, i bussanti non mi funzionano più Aspetta, faccio io allora Allora Buongiorno, tutto a posto? Sì, sì, bene Bella giornata oggi, vero? Eh, c'è un bel sole, sì Eh, sì È proprio la giornata per andare al mare Una calda giornata d'agosto Per andare a male No, al mare Ma guarda, guarda chi c'è qui davanti Davide Vabbè, il ponte è un attimo Aspetta Lo facciamo tu Oh, è un altro Mi vedo un altro Non quello del ponte Anarghei armato Vabbè, mettimi sulla resta Vedi, sulla resta Stanno cadendo sulla resta Aspetta, aspetta, aspetta C'è un SUV giallo, occhio Lo vedi? Non so se sono loro È quello, sono là dentro Sparateli, sparateli Grande, monta, monta Occhio Se ce lo fai, stendilo Cori, ma sei a registrar? Sì, sì, sì No, ma era triplet, quello Eh, ah Andiamo a vedere Andiamo a sbagliato bersaglio Non era... La capire Non era... No Era triplet Po' mando quella, quella su su Fuggiallo È re arancia Eh, si è fatta una bella cazzata Monta, monta E si prova a vedere Se si trova in macchina Ecco Ecco Questi chi sono? E oro e Andrea Ma il SUV giallo E non tre persone Da quello che ho visto Ah, la macchina di poesia Vai in pound là Rendo io, eh Occhio, eh Chi è? È qua Occhio È di qua 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 Aspetta Scendo anch'io Occhio, eh Sì, sì Faccio il giro, eh Sì Possiamo farlo rianimare, raga Sì, sì Quello che si è buttato giù per strada, sì Dove, dove è? Dove lo vedi? È sopra, senti i bassi sopra Raga, mi confermate che deve venire una task force? Ma lo sotto Dov'è Rialancio? Dove lo sto io Sei arancio Ma nel piano di sopra? Aspetta, arrivo con la macchina No, no È sceso, sceso, sceso Vediamo se riesco Ad aggirarlo Mi sono appena connesso Serve supporto L'ho preso Rialancio, l'ho preso Hai preso Rialancio? Bene, portalo direttamente al comando Sì, ciao Lucais Niente, hanno ammazzato un agente E si manda E si manda ad Absalom Corey dove mi fa una? Dovrebbe sponare al centro dell'isola A regola d'arte Vicino ai campi dove si lavora Alla fabbrica statale? Vabbè, te cercalo Tanto non è grandissima Lisa Allora, sposto la macchina Ok, grazie E anche questa è fatta Ma io la vedo sulla mia mappa No, è giusto Siamo riusciti a prendere Il criminale che ha sparato addosso All'agente Tra l'altro dice Vabbè, non c'era Non ero presente Facendo RDM Perché Gli ha sparato senza motivazione Ripeto Non giudico Quando non ce sono Sì, sto venendo con la macchina Eh, ragazzi Io sono lì ad Absalom Allora, mandiamolo Mandiamolo al carcere No, non teserarlo Sì, vabbè Si fa il carcere 10 minuti 15 Quante Ok Ok Andiamo a vedere Che succede al ponte Ok Grande corrida Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.